Questo video introduce il tema del tessuto di origine mesenchimale emopoietico che è un argomento di enorme importanza nella fisiologia del corpo umano così come in molti ambiti della patologia ma decisamente sui generis dal punto di vista dell'istologia generale insieme all'altro strano tessuto strettamente correlato e cioè il sangue. E allora prima di entrare nel merito della descrizione del tessuto emopoietico voglio fare una breve introduzione centrata proprio sulla stranezza della coppiata midollo sangue. Perché questi tessuti sono sui generis? Beh praticamente tutti gli altri tessuti del corpo condividono alcune caratteristiche di base. Cellule e matrice extracellulare sono organizzate appunto in tessuti nel senso che hanno forma propria riconoscibile microscopio determinata dal processo di sviluppo eccetera eccetera. Ora il tessuto emopoietico per quanto lasso ha un'architettura riconoscibile come vedremo ma il sangue no. Anzi tra i morfologi c'è un po' un dibattito ricorrente. C'è chi dice il sangue è un tessuto è fatto di cellule quindi è un tessuto ma no dicono altri il sangue non è un tessuto perché non ha proprio la consistenza non assomiglia affatto al tessuto che vedete sullo sfondo di questa immagine. Un'altra caratteristica di base è che tipicamente le cellule di cui un tessuto è fatto vivono e operano in quel tessuto tanto per dire un muscolo non dà origine a cellule che poi se ne vanno in giro per il corpo. Il tessuto emopoietico invece è per lo più fatto da cellule che proliferano si differenziano e alla fine abbandonano il tessuto no anzi lo abbandonano all'inizio della loro fase di maturità funzionale. Quindi laddove negli altri tessuti descriviamo la posizione e i rapporti spaziali tra le cellule di routine in relazione alla loro funzione nella linea ematica l'organizzazione spaziale delle cellule può essere descritta solo durante il differenziamento nel tessuto emopoietico. Appena mature però queste cellule entrano in circolo e da quel momento la descrizione istologica è sostanzialmente limitata alla morfologia delle singole cellule. Non possiamo fare altro data la natura liquida del sangue. Globuli bianchi e globuli rossi circolano nei vasi per un periodo di tempo che è variabile a seconda del tipo cellulare e poi escono dal circolo. I globuli bianchi lo fanno molto rapidamente, parliamo di alcune ore o al massimo pochi giorni dall'ingresso in circolo quando poi vengono reclutati per entrare in azione e questo avviene essenzialmente nei tessuti connettivi. I globuli rossi circolano per circa 4 mesi però anche loro alla fine sono sequestrati e distrutti nei tessuti specializzati nel processo che si chiama emocateresi e in tal senso la milsa svolge un ruolo di primo piano ma non è l'unico organo implicato. Quindi ricordando che il sangue è per certi versi un vettore, un trasportatore di cellule più che un tessuto a tutti gli effetti, questa trattazione parte da una descrizione del tessuto emopoietico che avverrà in questo video, seguita poi dalla descrizione delle cellule ematiche mature in un video successivo durante il quale descriverò anche la transizione dei globuli bianchi dai vasi ai connettivi propriamente detti. Questo è l'aspetto affresco del midollo rosso emopoietico accolto tra le trabecole di osso spugnoso e a sua volta circondato da uno strato di corticale di osso compatto. Questo è un discorso che avevo già affrontato nel video dedicato all'osso. La localizzazione del tessuto emopoietico, attenzione, perché si modifica con l'età dell'individuo. Anzi, è bene precisare che in epoca prenatale l'emopoiesi sembra letteralmente saltellare da una sede all'altra. Dall'iniziale comparsa nel sacco vitellino si passa nel corso dei mesi al fegato e alla milza, sedi però progressivamente soppiantate dal midollo osseo, che è l'argomento, ripeto, trattato in questo video. In età postnatale tutta l'emopoiesi è trasferita a questo tessuto, ma il processo in realtà continua a evolvere perché, come vedete da questo grafico, col passare degli anni il tessuto emopoietico rimane funzionalmente attivo in certe porzioni, specialmente a livello dello scheletroassile, mentre in altre sedi, come gli arti, il midollo rosso cede il passo al midollo giallo, come quello già visibile in realtà al centro di questa immagine. E attenzione perché mentre a livello macroscopico i due colori, giallo e rosso, consentono una grossolana suddivisione tra tessuto adiposo emopoietico. Teniamo presente che al microscopio le due componenti appaiono spesso intercalate, con diverse proporzioni tra l'una e l'altra. Lo vedremo fra un attimo. La lassità del tessuto emopoietico la si intuisce anche solo guardando questa fotografia. E in effetti sono necessari particolari accorgimenti per preservare l'integrità del campione in modo da consentire una corretta analisi morfologica del tessuto. Questo è un ottimo preparato in tal senso e osserviamolo a ingrandimento crescente, da un campo molto molto ampio fino al massimo ingrandimento disponibile nell'Atlante. In questo campo il midollo si presenta in tutta la sua complessità. Vedete che le cellule sono molto ravvicinate tra loro, a differenza della maggior parte dei connettivi in senso lato, categoria a cui questo tessuto a rigore appartiene. Oltre all'alta densità colpisce anche la notevole eterogenità morfologica. Ora con un po' di esercizio è possibile iniziare a distinguere i principali tipi cellulari contenuti in un'immagine come questa, sia immaturi che maturi. Considero però questo tipo di discriminazione un po' più specialistico, potrebbe meritare un video a parte. Qui invece rimango su un livello di analisi meno dettagliato, enfatizzando principi generali di organizzazione del tessuto. Per esempio in questo campo microscopico le cellule molto diverse fra di loro appaiono come mescolate senza un particolare ordine, ma questo non è vero dappertutto. Guardate per esempio quest'altro campo tratto dallo stesso preparato dell'Atlante. Senza entrare nello specifico, vedete la differenza di colorazione tra la parte destra e la parte sinistra dell'immagine. È del tutto evidente che la prevalenza di cellule basofile di qua e di cellule eosinofile di qua non può essere frutto del caso. Ora lasciamo perdere a quale linee appartengono. L'importante qui è cogliere che nel tessuto emopoietico è possibile riconoscere cordoni o nidi di cellule di derivazione comune che tendono entro certi limiti a rimanere vicini tra loro durante il percorso di proliferazione e differenziamento. Approfitto di questa immagine per mettermi in evidenza altre due cose rilevanti. Primo, ho già menzionato l'equilibrio variabile nel tempo tra midollo giallo e midollo rosso. Questo preparato è decisamente rosso, ma non è completamente privo di adipoeciti come per esempio questo. Secondo, una volta mature le cellule abbandonano il midollo osseo per entrare in circolo e ovviamente questo avviene attraverso vasi amatici. Qui se ne vedono diversi come questo o anche questo. Questi vasi sono caratteristicamente sinuosi e si chiamano per l'appunto sinusoidi. Quest'altro dettaglio offre un ulteriore spunto importante. Come sapete tutti i connettivi sono caratterizzati da una peculiare organizzazione della matrice extracellulare e come ho già detto il tessuto emopoietico a un'origine mesenchimale deve essere considerato appartenente alla famiglia dei connettivi in senso lato. Ma qui la matrice dov'è? Dato che tutto il campo sembra essere occupato da cellule e non si vedono grossi fasci di fibre collagene. Allora in realtà c'è e consiste qui di una delicata rete di fibrille collagene organizzate in reticoli tridimensionali. Quindi sono fibre reticolari. Qui sono appena visibili come sottili linee osinofile un pochino inframezzate fra gruppi di cellule. Questa è una rete sufficientemente robusta da mantenere le cellule in posizione ma sufficientemente lassa da consentire i movimenti legati all'attiva proliferazione e anche alla migrazione in circolo. Un po' di movimenti sono quindi inevitabili. Ora attenzione dove ci sono fibre extracellulari ci devono essere fibroblasti. E qui al rischio di sbagliare diagnosi mi espongo un pochino dico che questi profili cellulari potrebbero forse appartenere a fibroblasti. Il ricorso a schemi sinottici spesso aiuta a generalizzare ciò che si osserva nei preparati istologici. Questo è un buon esempio. Qui vediamo diverse popolazioni cellulari in accrescimento colorate ma attenzione sono colorate in modo arbitrario. Vediamo in arancione la linea eritrocitaria, vediamo in violetto globuli bianchi, poi ci sono alcuni sinusoidi che si gettano nella cosiddetta vena longitudinale centrale attraverso cui poi le cellule defluiscono dal midollo per entrare nel circolo sistemico. Lo schema mostra anche il passaggio di cellule immature dal midollo al circolo ematico e questo avviene attraverso la parete dei sinusoidi. L'endotelio in questi vasi è particolarmente permissivo in tal senso. Il processo se ci pensiamo è complementare alla diapedesi che si osserva nel circolo sistemico cioè la extravasazione leucocitaria quando i globuli bianchi passano dai vasi al connettivo ma di questo meccanismo parlerò in realtà nella prossima lezione. Qui vi faccio notare che mentre la diapedesi riguarda esclusivamente i globuli bianchi qui ovviamente il passaggio attraverso l'endotelio è consentito anche i globuli rossi. Vi faccio infine notare i voluminosi adipociti che vi ripropongo con quest'altra immagine istologica. Vi ricordo che il volume della cellula è quasi interamente occupato dalla gocciola lipidica che però viene disciolta durante la preparazione del vetrino in particolare dal passaggio negli alcol per cui l'immagine qui è trasparente la cellula sembra vuota. Io trovo interessante sempre complementare microfotografie e raffigurazioni schematiche o artistiche che adottano diversi stili. Questo disegno per esempio riproduce componenti che vi ho già presentato e lo fa apparentemente simulando l'aspetto del tessuto al microscopio elettronico a trasmissione sia pure a basso ingrandimento. Il motivo per cui dico questo e qui ne approfitto per una piccola notazione metodologica è il nero della gocciola lipidica negli adipociti che sarebbe dovuto ai metalli che sono utilizzati in microscopia elettronica come mezzi di contrasto. Questi metalli risultano particolarmente concentrati nei lipidi cosa che peraltro facilita anche la visualizzazione delle membrane che è caratteristica della microscopia elettronica. Ora sperando di non aver interpretato male l'immagine cosa che può sempre succedere chiudo la parentesi ma rimanendo però sul tema della componente diposa del tessuto emopoietico. Ecco un preparato che mostra un grado più avanzato di sostituzione della componente emopoietica. Guardate dalla parte bianca tutti i voluminosi adipociti come diventano quasi prevalenti e infine questo è l'aspetto del midollo quando la sostituzione è completa. Come vedete gli spazi tra le trabecole di osso spugnoso sono interamente occupati da tessuto adiposo e questo si apprezza meglio nel dettaglio. Come vedete si tratta di osso lamellare quindi maturo intorno al quale non c'è più traccia di elementi emopoietici. Richiamando questo grafico questa microfotografia potrebbe essere stata presa allora da un'epifisi per esempio di femmore però in un individuo di 30 anni o più. Nonostante la progressiva riduzione dal punto di vista volumetrico il midollo emopoietico mantiene per tutto l'arco della vita la sua caratteristica proprietà di provvedere al ricambio di cellule che per loro natura hanno una sopravvivenza limitata. è dunque una inarrestabile fucina di cellule e soggetta a una finissima regolazione della rapidità di produzione dei diversi tipi cellulari a seconda delle circostanze sia in ambito fisiologico che nel corso di processi patologici. E a proposito dell'importanza di questo tessuto in campi della medicina come l'ematologia e l'oncologia vale la pena accennare brevemente alla procedura del prelievo del midollo attraverso la quale si ottengono campioni poi esaminabili al microscopio. Ora ci sono due metodi di estrarre il tessuto o una biopsia che consiste nel prelievo di un piccolo cilindretto di tessuto oppure il cosiddetto ago aspirato da cui si ottiene materiale semifluido per mezzo di una speciale siringa. Il primo procedimento è naturalmente più invasivo però consente in compenso di esaminare tutte le componenti del tessuto incluso il delicato stroma. Mentre l'ago aspirato è più limitato ci si concentra in questo caso sulle singole cellule non potendo più osservare l'organizzazione del tessuto. Il midollo estratto tramite ago aspirato è preparato con il cosiddetto striscio che è la procedura estologica utilizzata anche per osservare le cellule matiche circolasti. Questa è una procedura classica ben nota e in estrema sintesi consiste nel porre una goccia di campione di tessuto a un'estremità di un vetrino estologico e poi prendere un secondo vetrino posto più o meno a 45 gradi e strisciare la goccia lungo il vetrino che sta sotto e quindi il tessuto si espande sul vetro e consente una osservazione delle singole cellule. Inutile dire che il prelievo di un campione di sangue è notevolmente più agevole rispetto a quello al midollo ma dal punto di vista poi della procedura successiva le tecniche sono simili. Questo è il tipo di immagine che si ottiene seguendo lo striscio del midollo. Nella parte di attacco le cellule sono troppo distanziate e spesso sono distorte mentre la morfologia ottimale si ottiene nella parte centrale del vetrino e dopodiché nella parte terminale di nuovo diventa meno buona dal punto di vista qualitativo. Se a partire da questa zona centrale osserviamo un dettaglio a maggior ingrandimento si visualizza chiaramente la notevole etereogenità morfologica della popolazione cellulare ma anche la possibilità di descriverle chiaramente una per una. Un rapido avvertimento in questo campo vedete numerosi globuli rossi dall'aspetto chiaramente maturo praticamente indistinguibili da quelli circolanti ma perché bisogna tenere presente che il lago aspirato inevitabilmente raccoglie anche sangue presente nei sinusoidi quindi nello striscio sono inevitabilmente mescolati midollo e sangue. Ora per inciso questa microfotografia è stata ottenuta con un obiettivo 60 per a olio. Ne approfitto per un'altra breve annotazione metodologica quando si deve utilizzare un obiettivo ad alto potere di ingrandimento 60 o 100 sono le misure più frequentemente utilizzate. Dal punto di vista ottico questa è una sfida perché ogni volta che la luce attraversa un bordo un limite tra un mezzo e un altro tende a essere diffratta e più avviene questo fenomeno e più si deteriora la qualità dell'immagine. Mettere una goccina di olio come vedete qui fra la superficie del vetro del vetrino e la superficie dell'obiettivo avendo l'olio lo stesso indice di rifrazione del vetro e questo riduce questi effetti di diffrazione della luce quindi aumentano notevolmente la capacità di descrivere dettagli nel preparato e qui adesso vedete le immagini al massimo ingrandimento disponibile e vedete che dettaglio si riesce ad apprezzare. Ora come già accennato cercherò di realizzare un video specificamente dedicato all'evoluzione morfologica di ciascuna di queste cellule. Qui invece mi limito a un rapido cenno un po' a modo esempio sul differenziamento del globulo rosso che inizia più o meno con questa grande cellula detta proeritroblasto. Ora i due tratti inconfondibili di questa cellula sono il nucleo molto ampio, un citoplasma relativamente meno abbondante decisamente basofilo. Per rendersi conto del processo che avviene durante il differenziamento del globulo rosso basta confrontare questa cellula che in stadio iniziale con uno dei globuli rossi maturi circostanti e questo ci serve per apprezzare l'entità del processo di differenziamento. Il processo segue tappe precise che durano un certo numero predefinito di giorni. Sul piano istologico oltre alla perdita del nucleo e degli organelli citoplasmatici questi schemi mostrano la progressiva conversione del citoplasma da basofilo ad acidofilo. Questa è una cosa interessante. Il motivo di tale cambiamento in realtà abbastanza facile da comprendere. Il globulo rosso maturo è zeppo di emoglobina che viene accumulata nel citosol durante lo sviluppo della cellula. Quindi inizialmente sono necessari nel citoplasma un enorme numero di ribosomi decisamente basofili per la presenza ovviamente di RNA ribosomale. Col passare dei giorni però questi ribosomi diminuiscono di numero mentre aumenta il contenuto proteico quindi acidofilo del citoplasma come è visibile in questo grafico. Ora lasciando il caso specifico della eritropoiesi e parlando più in generale per descrivere il fenomeno del differenziamento si usano spesso rappresentazioni un po' astratte come questa. Io tra poco ne mostrerò un paio specificamente sulla emopoiesi. Studiando queste gerarchie tenete presente una regola generale utile. Il grafico può essere idealmente suddiviso in colonne verticali che corrispondono alle linee di differenziamento dei diversi tipi cellulari ma lo stesso grafico può essere anche suddiviso in bande orizzontali che corrispondono ai cosiddetti compartimenti. Per iniziare il termine compartimento non deve essere inteso come luogo fisico ma piuttosto come uno stadio funzionale, uno stadio evolutivo. Il concetto poi non è limitato a questo tessuto ma l'emopoiesi si presta particolarmente bene a questo ragionamento. Allora qui ne sono descritti di compartimenti quattro come vedete. Allora compartimento staminale, poi dei progenitori, dei precursori e poi gli elementi maturi. Iniziamo dal comparto staminale che è caratterizzato da cellule pluripotenti in attiva proliferazione ed è anche dotato di capacità di autorinnovamento. Questo è un termine piuttosto cruciale. Il termine indica che il serbatoio staminale non si esaurisce mai. Il modo più semplice per comprendere come funziona questa cosa è di pensare che in seguito a ciascuna mitosi, mentre una delle due cellule figlie è destinata a passare nel comparto successivo, l'altra rimane staminale, esattamente come la cellula madre. I progenitori sono anch'essi in attiva proliferazione ma hanno già imboccato una strada se vogliamo senza ritorno, nel senso che lo spettro di tipi cellulari a cui posso dare origine è limitato. La loro capacità di autorinnovamento anche è limitata, nel senso che in media il numero di cellule progenitrici che salta nel comparto successivo è superiore al 50% delle cellule che nascono per mitosi. Questo comparto quindi deve essere costantemente rifornito di nuove cellule dal serbatoio staminale al fine di mantenere stabile la numerosità complessiva della popolazione. I precursori rappresentano lo stadio successivo e non necessariamente queste cellule hanno completamente cessato di proliferare ma tutte sono comunque destinate al differenziamento in un particolare tipo cellulare. In altre parole qui non avviene la mitosi cosiddetta asimmetrica, quella cioè che consente a una delle due cellule figlie di lasciare il nido mentre l'altra rimane indietro a infoltire le fila. Di conseguenza questo compartimento risulterebbe rapidamente depauperato in mancanza di costante approvvigionamento da parte dei progenitori. Ora gli elementi maturi naturalmente sono le cellule che attraversano l'endotelio quindi abbandonate il midollo per entrare in circolo. Voglio però precisare che l'evoluzione di molte cellule matiche in questo comparto giallo, in questa scatolina gialla, in realtà non termina qui. In particolare la storia naturale di certi globuli bianchi sappiate fin d'ora che può essere molto complessa. Questa è una cosa che un po' affronterò nella lezione seguente. Ed ecco finalmente una prima sinopsi dedicata al differenziamento delle cellule matiche. Per la verità questo è uno schema molto semplificato. Vediamo. Si parte dalla cellula staminale, si chiama emocitoblasto, da cui hanno origine i due rami principali che sono la linea meeloide e la linea linfoide, qui rappresentate dai rispettivi progenitori. Qui il diagramma salta diversi passaggi per mostrare essenzialmente il risultato finale che è rappresentato, vediamo, dalle piastrine, dai globuli rossi o eritrociti, dai mastociti del tessuto connettivo, poi dai granulociti, che sono in particolare basofili, neutrofili ed eosinofili, e infine dai monociti, dalla linea monocitaria da cui hanno origine per esempio i macrofagi del connettivo, e infine le diverse classi di linfociti. Qui sono mostrati i principali cambiamenti morfologici a carico dei precursori delle cellule già menzionate, e qui sono incorporati concetti più moderni collegati a pattern di espressione genica che caratterizzano ciascun nodo in questi diagrammi. Di nuovo, magari mettete in pausa per osservarli in dettaglio. La descrizione delle cellule circolanti sarà oggetto del prossimo video, ma prima di chiudere questo vi faccio notare un aspetto decisamente peculiare dell'intero meccanismo. Le piastrine non sono realmente cellule, sono piuttosto frammenti di citoplasma rilasciati per gemmazione da questa strana grande cellula midollare che è il megacariocito. Ora, dato che il megacariocito non entra in circolo, questa mi sembra la sede più appropriata per una rapida descrizione morfologica. In realtà questa cellula era ben visibile nei preparati midollo che vi ho già mostrato inizialmente. Si distingue chiaramente rispetto alle cellule circostanti grazie alle due principali caratteristiche che sono le dimensioni decisamente notevoli e inoltre un nucleo di forma molto irregolare. Talvolta si vede come chiaramente plurilobato. Entrambe queste caratteristiche sono dovute al processo di endomitosi a cui vanno incontro i precursori dei megacariocito. Cioè cosa succede? La cromatina si duplica ripetutamente ma questo processo poi non è seguito dalla citodieresi di una normale divisione cellulare per cui le cellule finiscono con l'essere poliploidi. Nei video dedicati all'osteogenesi avevo già descritto una cellula dell'aspetto simile a questa. Si tratta dell'osteoclasto che però fa parte attenzione di una diversa linea di differenziamento nonostante le somiglianze. Dal punto di vista morfologico una distinzione fra le due è che quest'ultima cioè l'osteoclasto presenta effettivamente diversi nuclei distinti fra loro e non lobature di un nucleo unico. I megacariociti sono caratteristicamente addossati all'endotelio dei sinusoidi ematici e attraverso cui fanno penetrare sottili prolungamenti citoplasmatici e dalle estremità di questi prolungamenti gemmano le singole piastrine. Le principali caratteristiche di queste particelle, le piastrine, saranno descritte nel prossimo video dedicato specificamente alle cellule ematiche circolante.